La Sicilia è bella attuale quando facciamo bene, quando facciamo male non siamo siciliani belli. Stasera si festeggia la bellezza, l'estate questo palazzo. ... che è Red Ronny e i grandi artisti della nostra terra, Mario Incudine, Peppe Cubeta... Questo è il grande lavoro che sta facendo il presidente dell'Ars, che è anche presidente della fondazione. ... l'avevo persa in Instagram, qualche giorno fa l'ho sentita, l'avevo smarrato la testa, l'avevo passato... ... è un set... ... vai il tiro, vai il tiro, vai il tiro... ... ci hanno allestito il palco in maniera incredibile. Mi presentano la orchestra che stasera farà la cornice. Per esempio? Ma per esempio, fare vedere questa zona di Palermo. Io quando vedo un posto mi vedi già in mente il latino. Esatto. E quindi, quindi, secondo me qui questo è solo l'inizio di qualche persona. Invece abbiamo scoperto che la tradizione siciliana ha un sacco di canzoni dedicate a Gesù Bambino, dedicate al Natale. E con l'unica... ... 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